Piccolo fuori programma a Milano durante la chiusura della campagna elettorale il circolo Arci Corvetto di Milano. Protagonista del fatto il generale in pensione Antonio Pappalardo, che si è alzato in piedi durante il comizio della Presidente della Camera Laura Boldrini, minacciando di arrestarla, in quanto donna delle istituzioni. Il pensionato è stato subito allontanato dal servizio di security. Ma la Presidente della Camera non si è scomposta e una volta che l'ex militare era stato allontanato al chiusato. La democrazia non è una buffonata, c'è sempre qualche mitomane che vuole attirare l'attenzione. Non ha capito che qui non c'è trippa per gatti. Mettiti l'anima in pace, non mi fai paura. Il leader di Leo, Grasso, ha commentato. Una sceneggiata ridicola. Per fortuna la politica è un'altra cosa.